Salve, sono un funzionario dell'agenzia Culebrae, sono l'impresa, e questi sono i miei aiutamenti, del frate. No, no, frate, è come dico io, eh. È come dico io? È come dico io? È come dico io? Ma come si può fare? Vengono morti e tu ricevervi? Ciamai! Il lavoro qui già è poco. Wow, diciamo lui che a fare sì che non la potremo mai perdere. Salve il prezzo. Oh no, bene, non me. Comunque, noi da giorni felici siamo qui, abbiamo visto un cd, tutta musica vita. Il cd si chiama il momento del silenzio. Ah, se meno male che vive, sei morto come chiamato, aspetta che ti scavamo. No, no, segui la luce, eh. Quella è il titolo di una canzone. Gianni che cacchio. Comunque, noi siamo qui per la nuova promozione della... Gianni Felici. Brava. La promozione per due parti. Ma che cazzo? Puoi sparare qualcosa di solda da murinato? Ehi! Ehi! Io ci vi succedendo che puoi sparare qualcosa di un po' di un po' di ramassimetro. La robazione consiste una varamattinosa. Stripla in caso di... Come carro, il Tullusso. Un cavallo di neve e un cocchiere nero con stadimento. Insomma, sarà una morta da favola. Ed in caso che vogliate che i vostri cari togli dolciere... Abbiamo creato appositamente in chiesa la sala fumatori. E non dico cuscini, eh. Dicendo con lei. Adesso io l'ho fatto cuscini. No, stai dicendo tutto cuscini. Dicendo lei. Sottile, perché non è possibile. Perché ho avuto ogni po' di venne. Mi ricercate che non c'è la chiesa, poi mi vedi, se la vedi con me e mi cresimo. Ed ancora, solo per chi vuole entro fine l'ucchio, una batteria diventare i nazionali, così non dirà più... Alla fine, tutto corretto. Da po'. Da po'. Posso dire che ha tassi in tutto. Quindi, affrettatevi. Sembrano una sola. Porcosci. Naturalmente non dimentichiamo gli anziani. Al cui regaliamo una barra con ampi fanno integrato. con soldi, aspetti. Con soldi cenni. Dove potete ascoltare le parole del... le parole a cui leggete il testamento. Eh, le parole... le parole dei vostri cari. Eh sì. Specialmente di quelle a cui non avete lasciato niente. Sai come voi riderivate? Silenzio! Ma vetti nei due poteri. Mi chiamavano come va in terra. Basta! Silenzio! I paliacciati fanno sulle bib. Qui siamo seri, a parte di mamotto. Bene, a livello. Totò! Esatto! Esatto! Esatto qua! 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 Un dò è il suo sangue! Dove potete vedere le vostre migliori parole. Da quelle Morgan a quelle... Di Movenga! A quelle di Parigi, a quelle... Di Dubai e Naccai. E non dimentichiamo la camera dente! non ci piace capata a rdendere un poze tu mollaci basta ricordati che devi morire beh non ci resta che piangere ben India who dattrice bravo 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 e fa stilenare sottligt assim bravo 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 bravo